Benvenuti, proviamo ora a cercare di capire come organizzare un server in MindTest Questi concetti sono abbastanza simili a quelli che servono per fare un server in qualunque altro genere di cose quindi anche un server web o altre cose, ma noi lo limitiamo al MindTest Client quindi come forse avete già visto nell'incontro precedente, noi abbiamo un client che a certo punto attraverso internet si collega con un'entità esterna che chiamiamo server, nel nostro caso è aliasl.org e facendo in questo modo si riesce a entrare nel mondo quindi aliasl.org, mettiamo utente e password e abbiamo la connessione Bene, quindi questo mondo è residente su un computer esterno Ora andiamo un attimino a cercare di investigare, per chi non lo sapesse, quali sono le caratteristiche di questo nome Vedete che ho messo aliasl.org 30.000 Ho scritto anche UDP perché può servire in alcuni contesti, quando fate un po' in server su delle scuole ma in realtà la cosa importante è che l'indirizzo a cui vi collegate è dato da un nome, quindi un nome aliasl che magari è anche minuscolo e da una porta quindi nome di dominio e indirizzo della porta In realtà quello che succede è che lui si collega fisicamente a un indirizzo che si chiama IP Internet Protocol Ora, l'indirizzo IP4, la versione che c'è adesso è composta da quattro numeri ognuno dei quali compreso fra 0 e 255 quindi in questo caso 188, 165, 228, 210 Quello che è interessante da sapere è che io potrei anche usare questo numero invece di aliasl.org per collegarmi al mio server E come faccio a vederlo? Basta che nel collegarmi invece di scrivere aliasl.org ci metto quel numero Quindi avendo messo quel numero la connessione avviene ugualmente esattamente come prima e ci colleghiamo esattamente nello stesso punto Quindi quello che è importante da sapere è che si può usare sia il collegamento tramite nome simbolico che è questo aliasl.org che l'indirizzamento tramite IP Ora, questo IP, come vedete, nel caso di aliasl.org è un'informazione che rimane costante cioè aliasl.org è un server che ha e questo lo posso vedere con il ping quindi se io apro il command prompt questo per chi non lo sapesse si può aprire con Windows il tastino Windows e poi R e poi premo cmd mi viene questa finestrella nera e poi dentro questa finestrella nera posso fare ping ping aliasl.org e vedete che ping è un comandino che permette di raggiungere un computer esterno e ci dà automaticamente il numero IP ok allora quindi questo per un server che risiede su un server esterno che è direttamente collegato in rete e sul quale è stata fatta comunque la richiesta di un'associazione di un dominio quindi io praticamente cosa ho fatto? sono andato su ovh.it e su ovh.it ho chiesto di associare il termine aliasl.org e a questo punto gli ho detto che ogni volta che scrivo aliasl.org in realtà deve tradurmerlo in 188 165 228 228 2210 va bene ora quando voi siete invece volete fare un server vostro nella vostra scuola o a casa vostra dovete in realtà sapere una serie di altri concetti perché non è mai niente di così semplice cioè questa struttura che vale da casa mia o da qualunque browser al server in realtà a casa vostra diventa rovesciata nel senso che se volete fare un server qualcuno vi dovrà chiamare e allora vediamo un po' la struttura di quello che succede nella vostra casa o nella vostra scuola in realtà avrete notato che quando vi arriva la connessione internet ultimamente non vi arriva più cioè vi arriva una cosa che chiamano modem ma in realtà più che modem in questo momento si dovrebbe chiamare router router e firewall questo router firewall è un qualche cosa è quella per chietto con le lucine che si accendono che collegate vicino alla presa telefonica e che poi dà disposizione via ethernet quindi attraverso cavo o attraverso wireless e voi vi collegate potete collegare n computer il vostro pc normalmente è collegato al computer ora quello che succede è che se voi volete essere chiamati da internet internet deve arrivare fino a casa vostra quindi deve conoscere il vostro ip perché abbiamo visto che il meccanismo è che se qualcuno vi chiama deve chiamarvi con un numerello il problema è che quando si arriva da fuori cioè se volete che la vostra server sia ceduta universalmente da fuori dovete avere un indirizzo ip esterno ora qual è l'indirizzo ip ecco il problema è questo che se volete essere ceduti esternamente dovete averlo questo indirizzo ip e deve essere costante non deve cambiare nel tempo il problema è che ultimamente da parecchi anni visto che gli ip indirizzi ip sono preziosi questi indirizzi ip vengono non vengono dati in maniera costante quindi a meno che voi non chiediate a telecom e quindi compriate e paghiate per avere un indirizzo ip fisso si dice non siete garantiti che il vostro indirizzo ip sia quello che è sempre quello e quindi diventa difficile farsi chiamare dall'esterno perché ogni volta chi vi chiama dall'esterno dovrebbe usare un numero di identificazione diverso quindi per il momento tutto questo discorso poi in più in realtà c'è un altro problema e cioè che anche se aveste un indirizzo ip fisso questo indirizzo ip deve varcare e quindi arrivare all'interno di questa sottorete questa LAN interna local network e questa rete locale in realtà ha degli indirizzi ip che sono incompatibili con gli indirizzi esterni quindi non non si può arrivare quindi gli indirizzi che voi avete nella vostra rete di casa sono tipicamente indirizzi di tipo 192 10 o 172 mi sembra che siano più o meno tutti i tipi ecco questi indirizzi sono un po' particolari tutti gli indirizzi che iniziano con 192 con 10 o con 172 sono raggiungibili solo all'interno di questa rete ora come facciamo noi a sapere qual è l'indirizzo della qual è l'indirizzo ip che ho io internamente basta che faccio un su windows faccio ipconfig ipconfig mi da una serie di informazioni magari possiamo fare ipconfig su questa finestra nera che abbiamo visto prima non è come chiamarla faccio ipconfig barra punto interrogativo abbiamo le tutte le opzioni ne vediamo un po' diciamo che la cosa più semplice è appunto vederla come abbiamo fatto noi quindi ipconfig e poi vedere tra tutti gli indirizzi che dà quelli che sono associati alla scheda con cui siete collegati a internet in questo momento in questo momento io sono collegato via wifi e quindi ho questo questo qui all'inizio vedete che c'è un sacco di roba tantissime cose sono internet internet virtualbox perché ci ho installato anche le macchine virtuali tante cose comunque probabilmente da voi la situazione sarà molto più semplice quindi come faccio a sapere che questa è quella buona in realtà dovete appunto fare speranzosamente voi ne avete di meno ma potete fare un po' di meditazioni e cercate l'indirizzo ipv4 e l'indirizzo ipv4 è questo qua 192 168 196 ok tipicamente è quello che ho segnato qua se voi aveste altri pc collegati avranno anche loro gli indirizzi diversi quindi 192 168 195 .94 cose del genere quindi se voi siete in una scuola tipicamente la scuola sarà collegata tutta a un router centrale in cui saranno definiti tutti questi indirizzi locali che avranno uguali tipicamente i primi due numeri anzi i primi tre numeri tipicamente e poi cambieranno potrete associare fino a 256 computer associati a quella rete qui vedete che c'è un'altra 192 168 44 1 perché io su questo pc sono in realtà in questa situazione in cui ho ho praticamente configurato dentro il mio pc un sistema di macchine virtuali che permette di vedere n macchine all'interno del mio pc ognuno delle quali può avere degli indirizzi ecco perché vedete che il numero a sotto rete è 44 e quindi tutto un'altra rete però questo lasciamo perdere è solo per dirvi che la situazione dell'ip può diventare complicato a piacere quindi noi vedremo adesso una situazione credo media in una scuola o in una casa in cui non esiste questa situazione molto più semplice della mia avete soltanto un indirizzo interno 192 168 44 1 ok questa cosa qua in teoria si può anche ottenere andando a vedere internet access qua windows 10 andate a vedere a cosa siete collegati quindi vedete che c'è telecom connected e poi properties properties dovrebbe essere possibile da qua vedere ecco vedete anche qua più facile 192 168 1 96 che come vedete è esattamente l'indirizzo che abbiamo cercato con ipconfig quindi se vi spaventa andare dentro ipconfig lo fate da qua direi che è un pochino più semplice quindi cliccate andate sulla vostra scheda proprietà ok e poi andate a leggere in fondo diciamo cosa c'ha quindi 192 168 96 ricordate lo segnate eventualmente se siete in una scuola vi conviene segnare il numero ip di ogni pc col suo numero relativo e in particolare quello che è importante è che dovrete segnare il numero del pc che funziona come come server perché su quel pc andrete a installare il server main test solo una cosa visto che stiamo parlando di questi numerelli se voi volete fare le prove localmente localmente vuol dire che voi volete semplicemente avere un server interno a cui vi collegate potete o usare l'indirizzo appunto che abbiamo appena detto 192 168 1 96 e quel ping che vi fa vedere che ci arrivate oppure potete fare anche ping localhost che è praticamente la stessa cosa anzi più veloce perché accede localmente oppure ancora 127 001 allora questi sono gli indirizzi quindi li scriviamo qua quindi sono gli indirizzi associati al computer quando si lavora localmente quindi se voi volete fare delle prove e fare un server locale potete usare quegli indirizzi ok quindi fine diciamo della primissima spiegazione sugli indirizzi IP e sulle porte adesso passeremo al prossimo video a una configurazione di un server locale